un'altra qui un altro sinistra un altro e non ha più colti è l'ultima non ci siamo in ultima ci siamo in una cinta mamma mia non c'è tiani ti vede a me no è già stato adesso forse dio bravi mannaggia quanti cazzo siete nuova zona sicura e individuata one shot atterrato che cazzo no ma che cazzo ma l'ho ucciso questo dice che sono un hacker un hacker ma anche il che cazzo soldato nemico in arrivo ok bravo eccoli eccoli sono andate a sinistra ci sono nemici un altro i take it to Bart e' le angeli Berlino le angeli le angeli oh yeah oh team il star il tuo Carapoli merda lo pingo lacio fa l'acqua lacio fa l'acqua con il pappa basta quando per te gli uomini armi non capisco un cazzo eccolo vai ora me l'hai tuffata sono due ma non stavo camperando una destra l'ho visto minaccia rimossa erratto io non moro lo so e ce n'abbiamo una che qua non pushare questo ha spaccato amici a dico in via andiamo lì c'è uno via c'è non so mai quanti film che giocano in solo siamo a 16 no ma ci sono destra destra passo da sinistra un altro fatto quanti tutti 28 metri a destra qui da me uno fatto 24 metri c'è gente al piano dovrebbe morire atterrato l'ho atterrato c'è un altro là dentro ora non c'è più lo strumento sopra porco dio porco no quella sarà arrestato gente sopra di noi siamo nella zona sicura occhio ai nemici come dico non c'è bisogno trasmetto le coordinate per l'attacco aereo qui stranger 3 ricevuto attacco in culo WAPI nemico in voo sono presi l'attacco aereo sono presi la aereo Grazie a tutti.